Guarda, sono questo, no? Ti ricordi tutto? Sì, 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 sì. Vai, vai, vai lì, vai, vai. Sei brava, sei brava, sei brava. Grazie. Che devo dire? Non votare, non votare. Non c'ha nave. Non votare. Per favore, non votare. Non andare a votare. Non votare. Ma non votare. Fermo. Vogliono fare uno stato in cui la gente vota. Ma io sono a dieci anni che non voto. No, ti prego, non votare, no, davvero. Chi vota muore. Cioè, in realtà, anche chi non vota, perché siamo destinati a... No, era buono, era buono, era un po'... Non ci voglio andare a votare, io non ci voglio, non ci voglio. Poi siamo tanti, non ci vado io, ci vado un altro. Non andate a votare. Porta male. Quando? Di domenica? No. No, io la domenica non. No, no. Come devo fare, oh, sei tu il regista? No, ma che posto, senza macchina. A parte che non serve a niente andare a votare, poi... Poi io mi fido della classe dirigente di questo paese. Ci sono tanti capoccioni che lo sapranno meglio di me e che cosa si deve fare, no? È colpa mia, sei va tutta puttana, è colpa mia. Il 12, il 13 giugno non andare a votare. Perché? Perché? Per esempio... Perché... Secondo me puoi farla un po' più, capito, un po' o meno... Ah, cioè tu dici, però... Però... Poco? Un po' bravo. Però uguale. Ah, la faccio uguale. Vai. Se non mi danno il treno gratis, non mi muovo per andare a votare a... Ah, beh, io sto a Roma, cioè, vado in macchina, a piace, proprio... Non ci riesco, scusami, su certe cose... Non ci può essere una motivazione così forte per di una stronzata del genere. Non mi esce. Ma l'ho detto prima. Basta, vabbè, non... Dai, basta. Basta. Se l'ha detto, vieni a fare lo spot per il referendum. Credo che il 12 e il 13 giugno si debba andare a votare. Potrebbe. Dovrebbe andare a votare, mi sa. Ma belli convinti. Allora lo dico. Io voto. 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 E vota. Il 12 e il 13 giugno andiamo tutti a votare il referendum. Io voto perché mi piace. Io voto per il futuro. Vota perché dai un ottimo esempio ai tuoi figli. Io vado a votare perché sono state raccolte un milione e quattrocento e duemila e trentacinque firme e non era mai successo nella storia della Repubblica Italiana. Volete dirmi che un voto non conta? Ma chi l'ha detto? Un voto. Più un voto. Più un voto. Un voto. Quorum. È tuo interesse il 12 e anche il 13 giugno andare a votare questo referendum perché riguarda te, riguarda i tuoi figli, riguarda i tuoi nipoti. Pensaci, eh? Magari è importante. Abbiamo quasi finito. Fate entrare Brad Pitt. È importante. Non so se sei capito, insomma. C'è chi in coda. Ciao. Grazie a tutti.